fratelli e sorelline azzurre buongiorno a tutti allora oggi praticamente stanotte non sono stato tanto bene ho avuto un po di febbriccia e tanto mal di stomaco sarà dovuto alla partita chi lo sa oggi vedremo testeremo la mia pancina e quanto si spingerà a farla brava e dovevo decidere se fare il video o non farlo perché ero a letto e perché non mi sento tanto per la quale quindi ho detto vabbè ma siccome i miei fratelli e sorelle nere azzurre si meritano questo video per oggi quindi è giusto che io faccia questo video la location sicuramente è diversa ed è il mio letto di casa per il resto ci sarebbero 1500 cose da dire è vero è un amichevole è un amichevole ma non si può negare che non è un amichevole come le altre è vero anche che affrontiamo questa partita sicuramente in maniera differente dalla juventus nel senso che a livello di preparazione atletica siamo sullo stesso piano più o meno a livello di organico è inutile negare che sono superiori sulla carta sono superiori ma non è una novità non ci prendiamo in giro non diciamo cose che non sono perché è la verità vorrei tornare un attivino sulle parole di conte di questi giorni ovviamente lui dice se nel caso in cui non riuscissimo a fare gli acquisti adeguati e quelli che erano stati diciamo progettati dalla società insieme al tecnico è chiaro che le aspettative ovviamente cambiano le aspettative cambiano il pensiero si trasforma un po però io sinceramente sono fiduciosa sinceramente penso che l'inter formerà una buona squadra sinceramente penso che tante cose quest'anno sono state gestite malissimo malissimo e che quindi quando si intraprende un assetto societario differente o comunque ci sono dei cambiamenti è chiaro ed è anche normalissimo che si possa arrivare a questo perché come diceva un mio carissimo amico come quando c'è un terremoto è ovviamente un un esempio bruttissimo da fare però è vero ci sono anche gli assestamenti il terremoto c'è stato c'è stato negli ultimi sette otto anni c'è stato un terremoto penso del del 7,8 della scala icter all'interno della società dell'inter e quindi il motivo per cui ovviamente adesso ci saranno delle scosse di assestamento e bisognerà ovviamente cercare di placare insomma di placare queste queste scosse e penso che la società insieme ad Antonio Conte possa farlo è anche vero che purtroppo bisogna anche stare dietro al fair play finanziario non ci prendiamo in giro perché è così quindi l'affare Lukaku secondo me a 80 milioni è tanto 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 esagerato ma non demordo e non è detto che Lukaku non arrivi per quanto riguarda Perisic non credo che Conte abbia detto assolutamente che è sul mercato anzi ha soltanto parlato di ruoli che è ben diverso dal non voglio Perisic come è stato detto da tanti e tanti giornalisti e dico anche un'altra cosa ragazzi miei si sta facendo del giornalismo brutto 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 nei confronti dell'inter come sempre si parla è solo di crisi si parla addirittura ho letto un titolo di un giornale Conte vicino alle dimissioni stiamo parlando di fantascienza ma come al solito per l'inter arrivano sempre questi bei colpi da parte di tutte le testate giornalistiche o meglio quasi tutte le testate giornalistiche e i giornalisti pennivendoli perché ci sono anche quelli che scrivono il vero sono veramente pochi ma esistono esistono ancora e io sono interista quindi essendo interista parto dal presupposto che io tifo l'inter e sarò sempre con l'inter qualsiasi decisione possa prendere e qualsiasi decisione possa possa maturare è anche vero però che come tutti gli altri tifosi pretendo e merito una risposta a tutte 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 le domande che vengono fatte in questo momento da parte dei tifosi interisti e soprattutto pretendo che venga fatta al più presto una squadra valida che possa competere con il campionato di calcio con la champions league e con la coppa italia punto perché il tifoso interista merita rispetto quello che negli ultimi anni non è stato dato secondo me la colpa se vogliamo addebitarla a qualcuno è per la maggiore del signor piero ausilio e non mi nascondo dietro un dito perché secondo me è una persona che ha detta a fare determinate cose e in questi anni non è stata in grado purtroppo di portare avanti perché è la verità ragazzi non ci prendiamo per i fondelli e quindi io penso che forse l'inter debba fare delle scelte anche a livello societario differenti come ha preso marotta probabilmente deve far fuori qualcuno come ha fatto fuori branca anni fa adesso dovrebbe pensare di poter far fuori qualcuno che dirvi più oggi c'è inter juve inter juve non è mai una partita classica una partita delle tante inter juve è inter juve sia amichevole sia però c'è non non ci prendiamo in giro è una partita difficilissima hanno i giocatori in campo che possono cambiare una partita anche se stanno a livello fisico come noi per la preparazione atletica loro hanno quel qualcosa in più per decidere per decidere una gara non sto assolutamente buttando le mani avanti anche perché secondo me l'inter se la giocherà fino in fondo una cosa sola voglio dire antonio conte un po più di carisma come tu solito fare perché il tuo modo di rapportarti in questo momento alla stampa non tanto mi sta piacendo fratelli e sorelle azzurre auguro a voi una buona giornata spero vivamente di sentirmi meglio più tardi spero vivamente che possa esserci un risultato quantomeno positivo nella partita di oggi il mio atteggiamento non è assolutamente remissivo è soltanto realista perché inter juve va combattuta fino alla morte fino a quando veramente non non esce non si strizza la maglia e come dice il signor conte bisogna strizzarla e far uscire tutto il sudore quindi che dirvi ricordatevi sempre che anche dal letto mezza morta ma non sconfitta la vostra lucri vi vuole bene e sempre 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 forza inter grazie mille